Ho capito, qui invece vediamo una Minarelli, una Minarelli, questo 68, è un P6 con la frizione con i denti dritti, il contagiri è già un Krober, già con l'elezione elettronica, diciamo che la testa è un pezzo un po' particolare perché ho fatto fatica a trovarlo, essendo uno di questi primi pezzi con il cilindro piccolo ed era ancora di ghisa, mentre questo qua è un cilindro d'alluminio con un pistone con un solo semento, era stato uno dei primi e ho fatto, sinceramente non pensavo più, dopo anni e anni non pensavo più di andare a ritrovarlo. Ah quindi prima aveva il cilindro di ghisa? Sì, e poi dopo anni e anni sono riuscito per pura fortuna a trovare il cilindro e però non avevo il pistone e allora cerca e cerca sono riuscito a ritrovare il pistone ed è montato un carburatore da 22. Questo è un 50 cm3? Un 50 P6, cioè P6 vuol dire con 6 velocità. Questo abbiamo visto anche in altre manifestazioni che fanno attualmente ancora delle gare. Sì, diciamo che fanno delle manifestazioni più che gare, nelle piste un po' private perché oramai devono essere molto iscritte all'Asi e non hanno più un valore come gare effettive e sono solo manifestazioni che lo fanno nei vari circuiti cittadini dove il Comune dà il permesso per fare questo tipo di manifestazioni. Grazie. 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 Grazie.